Un Barcellona poco brillante deve nuovamente rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Tra le unamiche del Dal Contres, infatti, i bianco-blu di La Rocca giocano una gara sottotono e contro Nostica l'iniziativa conquistano il secondo pareggio casalingo consecutivo. Uno 0-0 finale che lascia però la mano in bocca all'undici di San Piero Patti, che deve recitare il mea culpa per non essere riuscito a concretizzare le numerose occasioni da rete create. Ospiti già pericolosi dopo cinque minuti con Germano, che sugli sviluppi di azione d'angolo calcia al volo di tacco trovando il salvataggio sulla linea di porta del difensore russo. I giallorossi potrebbero passare in vantaggio al ventitreesimo, quando un'indecisione difensiva tra Benenati e Paratore consente a serio di calciare verso lo specchio della porta con la palla però che per sua sfortuna colpisce la parte superiore della traversa. Nella ripresa il tecnico di casa da Rocca prova a scuotere su inserendo anche l'attaccante Marcini, ma l'unica occasione pericolosa dei barcellonesi arriva al settantunesimo, quando russo dalla sinistra serve in area Lizzi che sul più bello viene anticipato dall'ottimo intervento del portiere. Poi però l'iniziativa prende in mano il comando delle operazioni e con un tiro dal limite dell'area di Adamo prima e un colpo di testa su azione d'angolo di Spinella poi costringono in pochi minuti l'estremo di casa Paratore a compiere gli straordinari. Gli ospiti credono nella possibilità di portare a casa i tre punti al settantasettesimo un gran tiro da fuori aria di Cappadona, si perde di pochissimo a fil di palo. Nei minuti finali l'iniziativa aumenta ancora di più la pressione, al novantesimo l'undici di San Piero Patti sciupa la più ghiotta occasione della partita. Quando Adamo serve in area Granata che mette al centro per la Corrente Biondo che tutto solo davanti a Paratore calce il pallone incredibilmente alto sulla traversa. Finisce dunque 0-0 un punto a testa che di fatto consente a Barcellona è l'iniziativa di rimanere appaiata in classifica a quota due punti.